Via dei Fibbiai Anche se in questo periodo le hanno un pochino, un tantino Come dire, volute cancellare? Peggio che mai Perché questa cancellazione è come una scritta Cioè praticamente peggio il rimedio di male Vedi? Qui è pieno di arte decorativa, certamente Quando non decorano col piscio, non decorano con le bombolette E poi borda, il che fanno? Delle belle pennellate di bianco Cercando di tappare lo schifo Che bello Resta tale, anzi aumenta addirittura Guarda che bello, guarda che bello Guarda che arte decorativa c'è qui In Via dei Fibbiai Veramente fantastica Cioè un... Una cosa... Guarda, guarda, guarda Hanno cercato di cancellare il che? Hanno fatto il peggio, il peggio, il peggio Tra l'altra parte uguale Tutto uguale Guarda lì, guarda lì Guarda lì, guarda Complimenti, evidentemente anche ai cancellatori Voglio dire E tutto questo A parte quello che sforza da certe finestre Insomma Vabbè E tutto questo Tutto questo No, voglio dire Dove va a finire? Va a finire Dove va a finire? Magari andasse a finire Purtroppo non va a finire Cioè Vedi, vedi, vedi Vedi, vedi Questo è il contromano Ecco Va a finire Va a finire In piazza Santissima Annunziata Quello che dovrebbe essere Il salottino di Firenze Dove hanno girato anche Dei film famosi Ah, fantastico Guarda E certo Una delle piazze Meno 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 curate Di Firenze Purtroppo sarebbe bellissima Ma Firenze Rizzate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti